La Locanda della Tormenta presenta Carnachie, l'inquilino dell'ultima casa. Buon ascolto! Era ancora sera, ricordo, e noi quattro, io, Jessop, Arkwright e Taylor, guardammo con delusione verso Carnachie, silenzioso in poltrona. Eravamo venuti in risposta al suo biglietto d'invito, che come sapete consideriamo il preludio sicuro a un buon racconto. E ora, dopo averci narrato il breve episodio di Tre Vassoi di Paglia, era sprofondato il in un silenzio assorto, mentre la sera non era trascorsa neppure per metà, come ho già accennato. Accadde però che un destino pietoso desse un colpetto al nostro ospite o alla sua memoria, cosicché quegli riprese in quel curioso tono uniforme. La faccenda dei Vassoi di Paglia mi ha fatto tornare alla mente il caso dell'inquilino, che ho qualche volta pensato che potesse interessarvi. È successo un po' di tempo fa, anzi, un sacco di tempo fa, e la mia esperienza di ciò che potrei definire fatti insoliti era molto limitata a quel tempo. Vivevo con mia madre all'epoca e in una piccola casa appena fuori Appledorn, sulla costa meridionale. La casa era l'ultima di una serie di abitazioni indipendenti, ciascuna con il proprio giardino. Erano abitazioni graziose, piuttosto antiche, la maggior parte delle quali immerse fra le rose e tutte con quelle pittoresche finestre a piombo e le porte di legno di quercia. Dovete provare a immaginarvele, almeno per la loro raffinatezza. Devo rammentarvi dal principio che io e mia madre vivevamo in quella casa da due anni e non c'era stato un solo evento strano che ci avesse turbati. Poi però accadde qualcosa. Fu intorno alle due di un mattino, mentre stavo ultimando alcune lettere, che udì che la porta della stanza da letto di mia madre veniva aperta, che lei giungeva in cima alle scale e batteva contro la balaustra. «Certo, cara!» esclamai, perché pensavo volesse solo ricordarmi che avrei dovuto essere a letto da un pezzo. La sentii tornare in camera e così mi affrettai a concludere il lavoro, per timore che potesse restare sveglia fin quando non mi avesse sentito nella mia stanza. Quando ebbi terminato, accesi una candela, spensi la lampada e salì le scale. Giunto di faccia alla porta di mia madre, vidi che era aperta. Così le augurai piano la buonanotte, chiedendole se dovessi chiudere. Non ottenendo risposta, pensai si fosse riaddormentata e serrai l'uscio delicatamente, incamminandomi verso la mia stanza dall'altra parte del corridoio. Mentre lo percorrevo, ebbi per un momento la vaga coscienza di un lieve odore sgradevole. Non fu prima della notte seguente, però, che mi resi conto di averlo davvero percepito. Riuscite a seguirmi? È spesso così. Uno consapevolizza all'improvviso qualcosa che si è registrato nella sua psiche un anno prima, magari. Il giorno seguente, a colazione, menzionai di sfuggita mia madre che si era addormentata dopo essere tornata a letto e che le avevo chiuso la porta. Con mia sorpresa mi disse che non era mai uscita dalla sua stanza. Le ricordai allora i due colpetti che aveva dato alla balaustra, ma era certa che mi sbagliavo, cosicché alla fine la canzonai dicendole che era a tal punto avvezza la mia cattiva abitudine di restare a lavorare fino a tardi da venirmi a chiamare anche nel sonno. Ovviamente lei negò, e io lasciai perdere. Era un po' confuso, però, e non sapevo se credere alla mia versione o accettare quella di mia madre, che attribuiva i rumori ai topi e l'aprirsi del luscio al fatto che non l'avesse chiuso andando a letto. Suppongo che in una parte inconscia di me ci fosse un accavallarsi di pensieri poco razionali, ma in quel momento non provavo una vera e propria inquietudine. La notte seguente vi fu uno sviluppo. Intorno alle 2.30 sentì la porta di mia madre aprirsi, proprio come la notte prima, e subito dopo lei, così mi parve, assestare secchi colpetti alla balaustra. Interruppi il lavoro dicendo che non ci avrei messo molto. Poiché lei non rispose, né io la sentì tornare a letto, mi chiesi se non stesse agendo nel sonno, come avevo detto. Con questo pensiero mi alzai, presi la lampada dalla scrivania e mi mossi in direzione della sua porta, che era aperta sul corridoio. Fu allora che ebbi un fremito di inquietudine, quando mi sovvenne che mia madre non batteva mai colpi quando restavo a lavorare fino a tardi e che mi chiamava sempre. Capirete che non ero davvero spaventato, solo un po' turbato e quasi sicuro che stesse facendo quello nel sonno. Salì rapidamente le scale. Giunto in cima, mia madre non era là, ma la porta era aperta. Pensai confusamente che fosse tornata a letto senza far rumore e senza che la sentissi. Ma malgrado questo pensiero, fui rapidamente dentro la stanza. Stava dormendo. Tranquillamente. E in modo naturale. Ma il vago senso di agitazione fu in me abbastanza forte da spingermi ad avvicinarmi a controllare per esserne certo. Quando fui sicuro che stava bene, rimasi ancora un po' turbato, ma molto più inclino a ritenere fondato il mio sospetto che fosse tornata a dormire senza far rumore e senza essere consapevole di ciò che faceva. Era la cosa più ragionevole da pensare. E allora, tutta un tratto nella stanza, fui colto da un vago insolito odore di muffa. E fu in quell'istante che ebbi consapevolezza di aver percepito lo stesso odore la notte prima nel corridoio. Ero a disagio e cominciai a frugare nella stanza, sebbene senza un preciso scopo o un'idea chiara, se non di confermare a me stesso che non c'era nulla di strano. Sapete, non mi aspettavo davvero di rinvenire qualcosa, ma solo che la mia inquietudine trovassero assicurazioni. Nel pieno della mia ricerca, mia madre si svegliò, così che ovviamente dovetti darle delle spiegazioni. Le dissi della porta aperta, dei colpi sulla balaustra e che ero arrivato trovandola addormentata. Non dissi nulla dell'odore, che era davvero distinto. Ma le dissi che la cosa, verificandosi due volte, mi aveva reso un po' nervoso e forse aveva eccitato la mia fantasia e che pensavo di dare un'occhiata per tranquillizzarmi. Avevo creduto fino a quel momento di non aver fatto menzione dell'odore, non solo perché non volevo che mia madre si spaventasse, essendolo io a mala pena, ma anche perché avevo la vaga sensazione di aver associato l'odore a fantasie troppo indefinite e singolari perché valesse la pena di parlarne. Capirete che, adesso, sono in grado di analizzare ed esprimere la cosa a parole, ma allora non sapevo neppure la ragione per cui non ne parlavo, figuratevi capirne l'eventuale significato. Fu mia madre che, dopo tutto, espresse a parole parte delle mie indefinite sensazioni. «Che odore sgradevole!» esclamò, restando poi zitto un attimo e fissandomi. «Pensi ci sia qualcosa che non va?» Ancora guardandomi. Tranquillamente lo disse, ma con un tono nervoso di interrogativa attesa. «Non lo so, mamma, non riesco a capire, a meno che tu non sia davvero messa a camminare nel sonno.» «L'odore!» «Già, è quello che sconvolge anche me. Farò un giro per la casa, ma non credo vi sia nulla.» Accesi la candela e presi la lampada, attraversai le altre stanze da letto, dopodiché tutta la casa, incluse le tre cantine sotterranee. Era un mettere alla prova i nervi, considerato che ero più teso di quanto ammettessi. Tornai da mia madre e le dissi che non c'era proprio nulla di cui preoccuparsi, e sapete, alla fine ci persuademmo che davvero non c'era niente. Mia madre non avrebbe mai ammesso di aver camminato nel sonno, tuttavia fu pronta ad attribuire l'apertura della porta a un difetto del chiavistello, che in verità scattava molto facilmente. Per quanto riguarda i colpi, poteva trattarsi del legno deformato della casa, legno vecchio, che scricchiolava un po', oppure di un topo che aveva urtato un frammento di tonaco. L'odore era più difficile da spiegare. Alla fine però convenimmo che potesse trattarsi dell'odore notturno di terra bagnata che entrava dalla finestra della stanza di mia madre dal giardino sul retro, oppure dal piccolo cimitero di campagna oltre il muro in fondo. Così ci intranquillizzammo e io andai a dormire. Credo che questa sia una lezione su come ci si possa illudere con facilità, visto che non c'era una sola di quelle spiegazioni che la mia mente potesse davvero accettare. Provate a immaginare voi stessi nelle medesime circostanze e vedrete quanto fossero assurdi i miei tentativi di razionalizzare quegli eventi. Al mattino, quando scesi a colazione, riparlamo dell'accaduto e convenimmo sul fatto che avevamo cominciato a immaginare cose che ora quasi ci vergognavamo di ammettere. È curioso a pensarci, ma anche molto umano. Ma poi quella notte la porta di mia madre sbatté. Era passata da poco la mezzanotte. E allora guantai la lampada e quando raggiunsi la porta la trovai chiusa. La aprì rapidamente ed entrai, salvo trovare mia madre che giaceva con gli occhi aperti in agitazione, svegliata dal tonfo dell'uscio. Ciò che mi sconvolse di più, però, fu l'odore disgustoso che c'era per il corridoio e nella stanza. Mentre le chiedevo se stesse bene, una porta sbatté due volte al piano di sotto, e potete immaginare come mi facesse sentire. Mia madre e io ci guardammo, poi accesi una candela e preso l'attizzatoio dal caminetto scesi giù con la lampada, cominciando a sentirmi nervoso. L'effetto accumulato di così tanti strani eventi stava prendendo possesso di me e tutte le spiegazioni, apparentemente razionali, ormai sembravano inutili. L'odore pareva forte nel corridoio inferiore, anche in salotto e nelle cantine, ma soprattutto nel corridoio. Feci un'ispezione accurata in tutta la casa, e quando ebbi finito, sapevo che le finestre le porte erano sprangate e che, a parte noi due, non c'era altro essere vivente nell'abitazione. Risalii da mia madre e parlammo della cosa per un'ora e più, giungendo alla conclusione che potevamo aver dato troppo peso a piccoli dettagli. In cuor nostro, però, non eravamo affatto persuasi. Più tardi, quando ci fummo tranquillizzati chiacchierando, le diedi la buonanotte e andai a letto. Nelle prime ore del mattino, quando fuori era ancora buio, fui destato da un fragore. Sedetti nel letto e restai in ascolto. Dal piano di sotto sentii... BUM BUM BUM! Le porte che venivano sbattute una dopo l'altra. Almeno questa è l'impressione che i suoni mi fecero. Saltai dal letto con i brividi di terrore addosso, e proprio mentre accendevo la candela, la mia porta si aprì lentamente, spinta dall'esterno. Non l'avevo assicurata al chiavistello, e questo per non sentire mia madre troppo separata da me. CHI E LÀ? Gridai con voce profonda il doppio di quella mia normale, e con quel particolare affanno che uno spavento improvviso produce. CHI E LÀ? Poi sentii mia madre esclamare. Sono io, Thomas! Cosa succede al piano di sotto? Vidi dalla porta aperta che aveva l'attizzatoio in una mano e la candela nell'altra. Avrei potuto sorriderle, non fosse stato per quei suoni portentosi giù di sotto. Indossai le pianelle e tirai giù dal muro un'antica baionetta ghiera. Presi la candela e pregai mia madre di non venire, ma sapevo che era inutile se si era messa in testa di farlo. E lo fece, con il risultato che agì come una specie di retroguardia durante le mie ispezioni. Per certi versi, come comprenderete, ero felice di averla al mio fianco. Quel momento lo sbattere della porta era cessato e forse, per contrasto, sembrava regnare un silenzio lugubre in tutta l'abitazione. Ciò nonostante, feci strada, tenendo la candela in alto e la baionetta portata di mano. Al piano di sotto, le porte erano spalancate, ma quelle esterne e le finestre erano ben chiuse. Cominciai a chiedermi se i suoni erano stati davvero provocati dalle porte. Solo di una cosa eravamo sicuri, che non c'era essere umano nella casa oltre a noi due, mentre ovunque nell'abitazione c'erano tracce di un lezzo disgustoso. Era assurdo continuare a far finta di niente. C'era qualcosa di strano. Così, appena fu giorno, ordinai a mia madre di fare le valigie. Poco dopo colazione, la accompagnai a prendere il treno. Mi misi al lavoro per cercare di sciogliere il mistero. Per cominciare andai dal padrone di casa per riferirgli gli eventi. Da lui appresi che 12 o 15 anni prima l'abitazione aveva guadagnato una curiosa nomea da tre o quattro inquilini, con il risultato di restare vuota a lungo. Alla fine era stata affittata a poco a un certo capitano Tobias, a condizione che tenesse la bocca chiusa in caso avesse assistito a fenomeni insoliti. L'idea del padrone, come questi mi confessò, era di liberare la casa dalle voci di qualcosa di strano, tenendovi dentro un inquilino e di venderla successivamente al miglior offerente. Quando dopo dieci anni il capitano Tobias disdisse il contratto d'affitto, non circolavano più chiacchiere su quella casa. Così, quando chiesi di prenderla per un lustro, il padrone aveva fatto un salto di gioia alla mia offerta. Questa era tutta la storia, o così almeno mi diede a intendere. Quando insistetti per avere dettagli sui presunti fenomeni insoliti verificatisi negli anni passati, rivelò che gli inquilini avevano parlato di una donna che si aggirava di notte all'interno dell'abitazione. Alcuni inquilini non avevano mai visto nulla, ma altri non sarebbero rimasti dentro neppure un mese. Una cosa il padrone di casa ci tenne a precisare, che nessuno si era mai lamentato dei colpi o dello sbattere delle porte. Per quanto riguarda il lezzo, sembrava esserne veramente contrariato. Il perché però non credo lo sapesse neppure lui, eccetto forse avere idea che si trattava di un'accusa indiretta da parte mia riguardo al cattivo funzionamento degli scarichi. Alla fine gli suggerì di venire a passare la notte da me, e fu d'accordo, specialmente quando gli dissi che intendevo mantenere riservo sulla faccenda e andarvi a fondo. Era infatti ansioso di non lasciare che le chiacchiere su quell'infestazione trapelassero ancora. Egli giunse intorno alle tre di pomeriggio. Concepimmo un'accurata ispezione per tutta la casa, che tuttavia non rivelò ancora nulla di particolare. Il padrone fece una o due prove che mostrarono il perfetto funzionamento del sistema di drenaggio. Dopodiché facemmo i preparativi in vista della veglia notturna. Per prima cosa prendemmo in prestito due lanterne cieche da un poliziotto della vicina caserma, del cui sombraintendente io ero amico. Quando sopraggiunse il tramonto, il padrone di casa tornò nella sua dimora a prendere il fucile. Io avevo con me la mia baionetta, e allorché il padrone di casa fu tornato, sedemmo nel mio studio parlandosi in quasi a mezzanotte. Accendemmo le lanterne e salimmo su. Posizionammo quelle, il fucile e la baionetta, a portata di mano sul tavolo. Quindi chiusi e sigillai le porte della stanza da letto. Infine ci sedemmo e spegnemmo le luci. Da quel momento, sino alle due, non accadde nulla. Poco dopo le due, però, come realizzai tenendo l'orologio in prossimità della debole luce emanata dalle lanterne cieche, ebbi un momento di eccezionale nervosismo e mi chinai verso il mio compagno, sussurrandogli che avevo l'impressione che qualcosa stesse per accadere e di tenersi pronto con la lanterna. Allo stesso tempo presi la mia. Nell'istante in cui compii questo gesto, l'oscurità che riempiva il corridoio parve diventare violetta, non come se una luce vi risplendesse, ma come se l'oscurità naturale della notte avesse mutato colore. Poi, attraverso questo buio colorato, apparve un bambino ignudo che correva. Cosa straordinaria! Non sembrava distinguersi dall'oscurità circostante, quasi fosse una concentrazione di quell'atmosfera sovrumana, come se quel colore che aveva mutato la notte provenisse proprio dal bimbo. Sembra impossibile spiegarlo, ma provate lo stesso a comprendere. Il piccolo mi oltrepassò correndo, con lo sgambettare tipico di un ragazzino paffuto, ma avvolto da un silenzio completo e inimmaginabile. Era molto piccolo e doveva essere passato sotto il tavolo. Vidi il bambino attraverso il tavolo, come se questo fosse stato solo un'ombra un po' più scura del buio colorato. Nel medesimo istante, un baluginio fluttuante di luce violetta delineò i contorni delle canne del fucile e della lama della baionetta, facendole apparire come vaghe forme luminescenti, galleggianti, sospese dove il ripiano del tavolo avrebbe dovuto mostrarsi nella sua solidità. Assistendo a questi fenomeni, fui certo, a un livello inconscio, di aver udito il respiro ansioso del mio compagno distinto e affannoso al mio fianco, dove attendeva con le mani sulla lanterna. Capì allora che non avevo visto nulla e che attendeva nell'oscurità che dessi un segnale. Anche prestando attenzione a questi dettagli, vidi il bambino saltare da un lato e nascondersi dietro qualche oggetto semivisibile, che di certo non apparteneva al corridoio. Guardai fisso, con un fremito di meraviglia piena di attesa, con uno spavento che mi faceva capponare la pelle. E mentre guardavo, risolsi fra me e me il problema, in quel momento marginale, delle due nubi scure sospese sul tavolo. Ritengo curioso e interessante il doppio lavorio della mente, spesso molto più evidente in situazioni di stress. Le nubi provenivano da due forme debolmente luminose, che sapevo essere il metallo delle lanterne, e le cose che apparivano nere alla vista non erano null'altro che quelle che dal normale occhio umano è percepito come luce. Ho sempre ricordato questo fenomeno. Ho visto due volte qualcosa di simile, nel caso della luce nera e in quella faccenda di Mateson, di cui siete bene a conoscenza. Nel mentre in cui afferravo questo meccanismo, stavo guardando alla mia sinistra, per capire perché il bambino si nascondesse. E udì allora il mio compagno gridare, «La donna!» Ma non vidi nulla. Ebbi la spiacevole impressione che qualcosa di ripugnante mi fosse vicino, e nel medesimo istante il mio compagno mi strinse il braccio in una forte presa e spaventata. Mi voltai in direzione del luogo in cui si era rifugiato il bimbo. Lo vidi fare capolino da dietro il suo nascondiglio, con l'aria di voler scrutare nel corridoio. Ma se con paura, io questo non lo potrei dire. Al che venne fuori, correndo via a capofitto e attraversando il punto in cui doveva essere il muro della stanza di mia madre. Tuttavia, i sensi con cui percepivo queste cose mi mostravano il muro come un'indistinta forma verticale priva di sostanza. Subito il bambino sparì al mio sguardo, inghiottito nel compatto buio violaceo. Il mio compagno allora si strinse contro di me, come se qualcosa gli fosse passato vicino, e gridò ancora, «La donna! La donna!» scoprendo con fare maldestro la sua lanterna. Ma io non avevo visto nessuna donna, e il corridoio apparve vuoto dopo che egli ebbe puntato il raggio di luce avanti e indietro a scatti, principalmente in direzione dell'entrata della camera di mia madre. Mi stringeva ancora il braccio e si era alzato in piedi. In quel momento, meccanicamente e ad agio, afferrai la mia lanterna e accesi la luce. La indirizzai stordito verso i sigilli sulle porte, nessuno dei quali però era rotto. Poi illuminai tutto il corridoio, ma non vidi nulla. Mi voltai al mio compagno che frafugliava cose incoerenti. Quando la luce gli passò sul volto, notai stupidamente che era madido di sudore. Quando le mie facoltà intellettive si riebbero, cominciai ad afferrare il senso delle sue parole. «L'hai visto! L'hai visto! L'hai visto!» diceva di continuo. Mi sorpresi a rispondergli, con un tono basso di voce che non avevo visto nessuna donna. E allora divenne più coerente, e scoprì che aveva visto una donna provenire dall'estremità del corridoio e passarci oltre. Ma non era in grado di descriverla, a parte il fatto che questa donna si fermava continuamente e si guardava attorno, scrutando con attenzione il muro, quello vicino a lui, come se cercasse qualcosa. Ma quello sembrava preoccuparlo maggiormente, perché intendeva dire che la donna non pareva essersi neppure accorta di lui. Lo ripetè così tanto che alla fine gli dissi assurdamente che doveva essere felice che non l'avesse fatto. Cosa significava? Vi chiederete? In qualche modo non ero tanto spaventato quanto ero confuso. All'epoca avevo visto molto meno rispetto ad oggi, ma ciò che avevo visto mi aveva già allontanato dai punti fermi del pensiero razionale. Che significava? Il mio compagno aveva visto una donna che cercava qualcosa. Io non avevo visto quella donna. Io avevo visto un bambino che correva e si nascondeva. Lui non aveva visto il bambino o le altre cose, solo la donna. E io non l'avevo visto. E questo cosa significava? Io non dissi niente del bambino. Ero troppo sbigottito e comprendevo che sarebbe stato inutile tentare una spiegazione. Del resto lui era già abbastanza stupito delle cose che aveva osservato e non era il tipo d'uomo che potesse comprendere. Questo ragionamento mi attraversò la mente mentre restavamo là illuminando intorno tutto con le lanterne. Per tutto il tempo, mescolata una punta di ragion pratica, mi ponevo la domanda Ma che significa? Cosa stava cercando la donna? E da chi fuggiva il bambino? Mentre restavo perplesso e turbato rivolgendo domande a casaccio al mio compagno, una porta di sotto sbatté con violenza ed un subito colsi il puzzo di cui ho detto. Eccolo! Eccolo quell'odore! Lo sente? Mi guardò con aria così intontita che lo scossi in una specie di rabbia ansiosa. Sì! Rispose con una voce strana cercando di indirizzare la luce della lanterna che gli tremava fra le mani verso la cima delle scale. Avanti! Dissi prendendo la mia baionetta e quello mi venne dietro portando il fucile con fare mal destro. Penso venisse più per la paura di essere lasciato solo che perché gli restasse del coraggio. Poveretto! Io non derido mai questo tipo di paura se non raramente perché so che quando si impadronisce di noi fa a pezzi il coraggio. Feci strada verso il piano inferiore indirizzandovi la luce quindi verso le porte per vedere se erano tutte chiuse. Le avevo infatti assicurate con il chiavistello e avevo poggiato l'angolo di un tappettino contro ciascuna porta così da sapere quale fosse stata aperta. Erano tutte chiuse. Mi volsi poi a controllare il tappettino che era stato messo contro la porta in cima alle scale che conducevano alle cantine. Ebbi un brivido di terrore. Il tappettino era disteso. Mi fermai un paio di secondi per illuminare il corridoio e aggrappandomi saldamente al mio coraggio scesi le scale. Giunto in fondo notai macchie d'umido su e giù per il corridoio. Le illuminai con la lanterna. Erano impronte di un piede bagnato sul pavimento impronte fuori del comune molli, dilaganti. Mi procurarono un'impressione di eccezionale orrore. Gettai la luce avanti e indietro su queste tracce che erano ovunque e portavano a ciascuna delle porte chiuse. Sentii toccarmi la schiena e mi voltai giusto per rendermi conto che il padrone di casa mi si era avvicinato e quasi mi si stringeva addosso per la paura. Ha tutto bene! dissi, ma in un soffio ormai privo di fiato. Sentivo che era percorso da tremori e avevo l'intenzione di infondergli un po' di coraggio. Proprio mentre provavo a rassicurarlo perché mi fosse d'aiuto il suo fucile esplose un colpo. Io trasalì gridando di terrore e imprecai per lo spavento. «Lo dia a me, per Dio!» esclamai strappandogli l'arma di mano. Nello stesso istante però un rumore di passi corse lungo il viale del giardino e una lanterna lampeggiò contro la finestrella della porta dell'abitazione. Qualcuno provò ad aprirla e subito dopo un violento bussare mi suggerì che un poliziotto aveva udito lo sparo. Andai verso la porta e la aprì. Per fortuna la gente mi conosceva. Dopo averlo fatto entrare fu in poco tempo in grado di spiegargli l'accaduto. Nel frattempo l'ispettore Johnston si avvicinava lungo il vialetto perché si era perso l'ufficiale e aveva visto le luci e la porta aperta. Gli spiegai il più brevemente possibile cos'era accaduto e senza far menzione del bambino e della donna. Sarebbe apparso troppo fantasioso perché mi si credesse. Gli mostrai le impronte bagnate e come andavano in direzione degli usci chiusi. Gli spiegai inoltre rapidamente la faccenda dei tappetini e come quello che era contro la porta delle cantine fosse ormai disteso cosa che dimostrava che quella porta era stata aperta. L'ispettore annui e disse alla gente di stare in guardia alla porta in cima alle scale delle cantine. Chiese poi che il lampadario all'ingresso venisse acceso e dopodiché prese la lanterna del poliziotto ed entrò nella sala anteriore. Si fermò sulla soglia e illuminò intorno a sé. Saltò poi nella stanza e guardò dietro la porta. Non c'era nessuno. Su tutto il pavimento di quercia però si disseminavano i segni di quelle spaventose impronte e la stanza era permeata di un lezzo orribile. L'ispettore ispezionò il locale con cura poi entrò nella stanza di mezzo usando le medesime accortezze. Non c'era niente lì e neppure in cucina ma le impronte andavano da tutte le parti in ogni stanza ovunque fosse un pavimento in legno o ricoperto di tessuto e c'era sempre quell'odore. L'ispettore interruppe la perlustrazione e impiegò un minuto per provare se quando le porte venivano aperte i tappettini cadevano distesi o se accartocciavano in modo da sembrare che nessuno li avesse toccati. Verificò che cadevano distesi e che restavano in quella posizione. Straordinario! Lo sentì mormorare fra sé. Si diresse poi alle cantine. Aveva chiesto se vi fossero delle finestre e avendo saputo che non ce n'erano altre vie ad uscite oltre a quella porta aveva deciso di serbare per la fine quella parte della sua ispezione. Avvicinatosi il poliziotto gli fece un cenno rivolgendogli alcune parole a bassa voce. Qualcosa nel suo tono però mi spinse a spostare la luce dalla sua parte. Era pallido e aveva un aspetto strano e sbigottito. Che c'è? Parla! Signore una donna è passata e ha attraversato questa porta. Continua! È passata una donna e ha attraversato questa porta qua. L'ispettore lo prese per le spalle e gli annusò l'alito con gesto deliberato. No spero tu sia stato così gentile da tenere la porta aperta alla signora. La porta non è stata aperta capo! Ah sei pazzo! No signore! Irruppe da dietro la voce del mio padrone di casa con tono fermo. Ho visto la donna di sopra! era chiaro che aveva riacquistato padronanza di sé. Temo ispettore Johnston che in tutto ciò vi sia più verità di quanto voi crediate. Ho visto cose straordinarie al paiano superiore! Dissi. L'ispettore parve sul punto di dire qualcosa ma si voltò invece e illuminò in basso intorno al tappettino. Le impronte andavano dritte fino alla porta delle cantine e l'ultima vi finiva sotto. Ciò nonostante il poliziotto diceva che non era stata aperta. Allora quasi senza rendermene conto chiesi al padrone di casa come erano le impronte? Ma non ottenne in risposta. L'ispettore stava infatti ordinando al suo agente di aprire la porta delle cantine e l'uomo non stava obbedendo. Johnston ripetè il comando e alla fine in modo meccanico l'agente obbedì spingendo l'uscio. Un puzzo disgustoso ci investì in un'ondata di orrore e l'ispettore indietreggiò di un passo. Oddio disse avanzando poi di nuovo e illuminando gli scalini. Non si vedeva nulla al di fuori di quelle impronte innaturali. L'ispettore portò il fascio di luce sul primo gradino. Là vivido sotto l'illuminazione c'era qualcosa di minuscolo che si muoveva. L'ispettore si chinò per osservare e così facemmo io e il poliziotto. Non voglio disgustarvi ma quel che vedemmo era un verme. Il poliziotto indietreggiò subito oltre la soglia. Il cimitero dietro casa! Silenzio! Esplose Johnston con una strana esitazione mentre pronunciava la parola che mi fece capire che era spaventato. Posizionò la lanterna sulla soglia e la illuminò gradino per gradino seguendo le impronte che scendevano giù nell'oscurità. Poi si allontanò dalla soglia e noi con lui. si guardò attorno ed ebbi l'impressione che fosse alla ricerca di un'arma di qualche tipo. Gli dia il suo fucile forza! Dissi io al padrone di casa. Questi lo andò a prendere dal latrio e lo passò all'ispettore che lo afferrò e tolse il bossolo vuoto dalla canna destra. Stese la mano per avere una cartuccia che il padrone di casa gli diede prendendola dalla propria tasca. Caricò il fucile e fece scattare la culatta. Si girò verso il poliziotto. Forza! Non vengo io capo! L'ispettore allora lo agguantò il collo con impeto e lo spinse dritto nell'oscurità. Il poliziotto andò giù urlando e Johnston gli tenne dietro con lanterna e fucile. Io seguì l'ispettore con la baionetta carica. Alle mie spalle sentivo vicino il padrone di casa. Arrivato in fondo Johnston aiutò il poliziotto a rimettersi in piedi mentre questi barcollava confuso. Poi si recò nella cantina adiacente e il suo uomo lo seguì intontito ma evidentemente senza più alcuna velleità di fuga. Fummo tutti nella prima cantina spostando il fascio di luce avanti e dietro. L'ispettore si era messo a esaminare la terra. Le impronte attraversavano tutto l'ambiente. Mi venne allora in mente il bambino che correva per fuggire da qualcosa. Capite voi ciò che in quel momento mi passava per la testa? Anche nella cantina successiva le impronte andavano in ogni dove nel modo irregolare di chi cerchi qualcosa oppure chi stia seguendo una traccia. Nella terza infine terminavano al basso pozzo che era l'antico rifornimento d'acqua della casa. Era pieno fino all'orlo e l'acqua così chiara che allorché indirizzammo le luci sulla superficie liquida potemmo distinguere chiaramente il fondo ciottoloso. La perquisizione finì bruscamente e rimanemmo là guardandoci gli uno con gli altri in un silenzio assoluto e agghiacciante. Johnston compì un altro esame delle impronte poi illuminò l'acqua scrutando il fondo del pozzo ma senza rivelare nulla. Nella cantina pregna di quel tremendo fetore ognuno restò in silenzio. L'unico rumore era il roteare delle lampade che illuminavano tutto intorno. L'ispettore distolse lo sguardo dal pozzo e annui silenziosamente verso di me. A questa sua tacita subitane ammissione che la nostra convinzione era ora anche la sua il puzzo nella cantina sembrò diventare anche più terrificante una specie di minaccia il segno concreto che qualcosa di straordinario era là con noi invisibile. Credo cominciò Johnston illuminando in direzione della soglia. A questo accenno il ritegno del poliziotto venne meno del tutto e degli corse verso le scale emettendo strani suoni gutturali. Il padrone di casa lo seguì a passo rapido e così facemmo l'ispettore ed io. L'ispettore mi attese qualche secondo dopodiché salimmo assieme camminando sugli stessi gradini tenendo le lanterne rivolte indietro. Arrivati in cima sbattei e chiusi la porta asciugandomi la fronte. Per giove mi tremavano le mani. Johnston mi chiese di dare al suo agente un bicchiere di whisky poi lo mandò a fare il suo giro. Restò poco con noi e fu stabilito che ci avrebbe di nuovo raggiunti la notte seguente quando avrebbe tenuto il pozzo sotto osservazione dalla mezzanotte fino all'alba. Poi ci lasciò mentre spuntava il giorno. Anche noi altri lasciammo l'abitazione e io mi recai dal padrone di casa per passarvi la notte. Rientrammo nel pomeriggio. Il padrone era molto calmo e sentivo di potermi fidare di lui ora che era stato sensibilizzato dallo spavento della notte precedente. Spalancammo porte e finestre e facemmo prendere aria all'abitazione. Nello stesso tempo accendemmo tutte le lanterne e le tenemmo nelle cantine disponendole in modo da avere luce ovunque. Portammo quindi tre sedie e un tavolo posizionandole nei pressi del pozzo. Dopo tendemmo una corda sottile di pianoforte attraverso la cantina a una ventina di centimetri dal suolo e a un'altezza tale da cogliere tutto ciò che si aggirava nell'oscurità. Compiute queste operazioni feci un giro per casa con il padrone e sigillai finestre e porte eccetto quella anteriore e quella in cima alle scale che conducevano alle cantine. Nello stesso momento un fabbro locale stava preparando qualcosa su mia richiesta. Appena io e il padrone di casa avemmo finito il tè ci recammo a vedere come procedeva il lavoro. Ormai senza fondo composta di pesanti fili metallici alta poco più di due metri con un diametro di uno. Per fortuna mi ero ricordato di farla tagliare longitudinalmente in due parti altrimenti non saremmo riusciti a farla passare attraverso le porte e giù per le scale della cantina. Dissi al fabbro di portare la gabbia a casa mia in modo che potesse assemblarne le due metà. Durante il ritorno mi fermai a un ferramenta e comprai filo sottile di canapa e una puleggia di ferro di quelle che usano nel Lancashire per sollevare gli attaccapanni da soffitto che si trovavano in ogni cottage. Acquistai anche un paio di forconi. Non ci andrà di toccarlo disse al via il fabbro. La montai sospesa dentro al pozzo in cui entrava perfettamente. Dopo un po' di tentativi riuscimmo ad appenderla con tale precisione al centro della corda sulla puleggia di ferro che quando la hissavamo sino al soffitto e la lasciavamo andare ogni volta cadeva esattamente dentro al pozzo come uno smorza candele. Quando l'avemmo sistemata la sollevai una volta ancora in posizione di partenza legando il cavo a un pilastro di legno al centro della cantina. Per le dieci tutto era pronto. I due forconi e le due lanterne della polizia, un po' di whisky e alcuni panini. Sotto al tavolo tenevo alcuni secchi di disinfettante. Poco dopo le undici bussarono la porta anteriore e andai ad aprire. Era arrivato Johnston con uno dei suoi uomini in borghese. Capirete quanto mi rallegrasse questa giunta al nostro corpo di sorveglianza. Sembrava quello infatti un tipo duro, senza emozioni, sveglio e padrone di sé. Il tipo che dovevo scegliere per aiutarci nel lavoro che ero certo ci aspettasse quella notte. Quando l'ispettore e la gente furono entrati chiusi la porta chiave. Poi mentre l'ispettore teneva la luce sigillai accuratamente la porta con nastro e cera. Chiusi a chiave la porta in cima alle scale delle cantine sigillandola allo stesso modo. Una volta dentro avvertì Johnston e il suo uomo di stare attenti a non inciampare nei cavi. Al vedere la sorpresa dell'ispettore al cospetto dei miei preparativi cominciai a spiegare le mie idee e le mie intenzioni a ciascuna delle quali egli prestò attenzione con segni di assenso. Ero compiaciuto che anche la gente assentisse con il capo mentre parlavo in un modo che dimostrava che le mie cautele venivano apprezzate. Appena misi la lanterna a terra l'ispettore prese un forcone e lo soppesò con la mano. Mi guardò e annui ancora La cosa migliore mi piacerebbe solo che ne avesse due in più. Ci mettemmo tutti a sedere la gente su uno sgabello preso dall'angolo della cantina. Da quel momento sino a poco prima della mazzanotte parlamo a bassa voce mentre facevamo una cena a base di whisky e panini dopodiché togliemmo tutto dalla tavola eccetto le lanterne e i forconi. Uno di questi lo passai all'ispettore mentre l'altro lo tenni per me. Dopo aver messo la sedia in posizione tale da essere pronto a manovrare il cavo che abbassava la gabbia nel pozzo feci un giro per spegnere tutte le lampade in cantina. Tornai tentoni alla mia sedia la lanterna cieca e il forcone a portata di mano. Suggerì che ognuno facesse silenzio durante la sorveglianza. Chiesi inoltre che nessuna lanterna venisse accesa fin quando non ne avessi dato l'ordine. Misi l'orologio sul tavolo dove una debole luce che proveniva dalla lanterna mi permetteva di misurare il tempo. Per un'ora non accadde nulla e eccetto qualche occasionale movimento cagionato da inquietudine ognuno stette in silenzio. verso l'una e mezzo tuttavia percepì di nuovo quell'insolito nervosismo che avevo provato la notte precedente. Allungai la mano rapidamente e allentai il cavo dal pilastro su cui era annodato. L'ispettore parve accorgersi del movimento perché vidi la luce flebile della sua lanterna spostarsi un po' come se l'avesse presa tutta un tratto con prontezza. Un minuto più tardi rivelai un cambiamento nel colore della notte diffusa nella cantina che ai miei occhi divenne gradualmente violetta. Mi guardai avanti e alle spalle all'interno di questa nuova oscurità e man mano che guardavo mi accorgevo che il violetto veniva scurendosi sempre di più. Verso il pozzo ma sembrava più distante c'era il centro di radiazione di questo cambiamento. Esso venne rapidamente si accostò e vidi che era ancora il bambino ignudo che correva e sembrava avere la stessa consistenza della notte violetta nella quale esso si muoveva. Con un movimento naturale proprio come l'ho descritto il bambino ci fu accosto ma in un silenzio così straordinariamente intenso che era come se portasse il silenzio con sé. Giunto a metà strada fra il pozzo e il tavolo il bambino si volse di scatto guardando verso qualcosa che non potevo vedere quindi si accovacciò quasi a volersi nascondere dietro qualcosa che si mostrava indistintamente anche se non c'era nulla in quel punto a parte il nudo pavimento nulla voglio dire che appartenesse a questo mondo potevo sentire il respiro degli altri tre uomini distintamente e il ticchettio dell'orologio sul tavolo io d'improvviso il padrone di casa che mi sedeva di fianco emise un respiro che fu una specie di sibilo capì allora che vedeva qualcosa giunse uno scricchio lio dal tavolo ed ebbi l'impressione che l'ispettore si chinasse in avanti scrutando in direzione di qualcosa il padrone di casa sporse la mano nell'oscurità e andò tentoni per afferrarmi il braccio guardai intento in quella direzione senza vedere nulla a parte che il colore violetto della cantina sembrava più smorto in quel punto mi voltai di scatto al luogo indistinto dove si nascondeva il bambino e da dove vedevo che si affacciava d'improvviso si sollevò e corse diretto al tavolo che era un'ombra confusa fra i miei occhi e il pavimento come vi passò sotto i rebbi d'acciaio del mio forcone furono avvolti da un alone viola fluttuante poco più in là appariva al buio il contorno fosforescente dell'altro forcone dal che seppi che l'ispettore lo aveva sollevato tenendolo pronto all'uso sul tavolo il metallo delle cinque lanterne brillò dello stesso chiarore mentre intorno a ciascuna di essa era una nuvola di oscurità fonda dove il fenomeno che i nostri occhi percepiscono come luce filtrava attraverso le fessure e in questa completa oscurità il metallo di ciascuna lanterna si mostrava in tutta la sua chiarezza come l'occhio di un felino in un cesto di lana nera il bambino si arrestò di nuovo appena oltre il tavolo oscillando sui suoi piedi e dando l'impressione di essere più leggero e inconsistente della lanugine con tutto ciò nello stesso istante una parte di me pareva sapere che quel bambino era come qualcosa che si trovasse dietro un vetro spesso invisibile soggetto a condizioni e forze che non ero in grado di comprendere la creatura si guardò indietro e i miei occhi andarono nella stessa direzione volsi lo sguardo intorno per tutta la cantina e vidi la gabbia sospesa chiara nella sua luce violetta ogni cavo e ogni giuntura resi evidenti dalla fosforescenza al di sopra della gabbia era un breve intervallo d'oscurità e poi lo scintillare uniforme della puleggia di ferro che avevo abitato al soffitto mi guardai attorno confuso c'erano linee sottili di un fuoco indefinito che attraversavano il pavimento da ogni parte al che mi ricordai della corda di pianoforte che avevo teso insieme al padrone di casa ma non c'era nient'altro da vedere a parte alcuni balugini nei pressi del tavolo e dall'altra parte in fondo il contorno rilucente di una pistola probabilmente quella nella tasca dell'agente ricordo di aver provato una soddisfazione istintiva alla riflessione meccanica del mio cervello su questo dettaglio insignificante sul tavolo poi vicino a me c'era un informe agglomerato di luce che dopo un'immediata considerazione seppi essere l'insieme delle parti d'acciaio del mio orologio pur considerando questi particolari non avevo mancato di rivolgere la mia attenzione al bambino che era tornato a nascondersi all'istante però fuggì lontano e non fu più che un nucleo solo leggermente più luminoso in quella strana atmosfera colorata il padrone di casa diede un piccolo urlo girandosi verso di me come per evitare qualcosa dall'ispettore giunse un brusco ansimare come se d'improvviso fosse stato bagnato da acqua gelida poi il colore violetto sparì e fui consapevole della prossimità di qualcosa di ripugnante mostruoso vi fu un silenzio teso e l'oscurità della cantina parve assoluta eccetto il flebile bagliore che circondava le lanterne sul tavolo poi in quel buio silenzioso si avvertì un debole gocciolare d'acqua dal pozzo come se qualcosa vi si stesse immergendo senza far rumore e l'acqua scivolasse via con uno scroscio delicato fu in quel momento che mi investì una folata di quell'odore spaventoso emisi un grido di avvertimento all'indirizzo dell'ispettore e allentai del tutto la corda cui fece seguito immediato il tonfo della gabbia che entrava in acqua poi con un movimento rigido e timoroso scoperchiai la lanterna e gridai agli altri di fare lo stesso come la luce colpì la gabbia vidi che fuoriusciva di una sessantina di centimetri dal bordo del pozzo e che c'era qualcosa all'interno di essa che sporgeva fuori dall'acqua restai a guardare con l'impressione di riconoscere l'oggetto e quando le altre lanterne vennero scoperchiate riconobbi una zampa di montone tenuta fuori dall'acqua da un pugno e un braccio possenti rimasi per un po' sconcertato guardando ciò che emergeva in un momento sorse un volto enorme coperto di barba che per un attimo pensai fosse quello di un morto annegato da tempo la faccia si schiuse dalla parte della bocca che farfugliò e tossì apparve un'altra mano enorme che si asciugava gli occhi le cui palpebre sbatterono rapidamente fissandosi sulle luci dal poliziotto giunse un grido capitano Tobias cui fece eco l'ispettore entrambi scoppiarono poi in una risata fragorosa corsero in direzione della gabbia e io li seguì ancora confuso l'uomo teneva la zampa di montone il più possibile lontano da sé e si tappava il naso alzate questa dannata trabbola presto gridò l'uomo con voce soffocata ma l'ispettore e il poliziotto si piegarono in due cercando di tapparsi il naso mentre ridevano e le luci delle loro lanterne ballavano per tutta la cantina presto presto disse l'uomo nella gabbia tenendosi ancora il naso e provando a parlare chiaramente johnston e il suo agente fermarono le risa e sollevarono la gabbia subito l'uomo nel pozzo scagliò la zampa nella cantina e si voltò con l'intenzione di rituffarsi in acqua ma i due ufficiali furono più lesti di lui e lo riacciuffarono in un batter d'occhio mentre lo tenevano tutto gocciolante l'ispettore fece un segno con il pollice in direzione della zampa e il padrone di casa avendola infilzata con uno dei forconi corse con essa su per le scale e poi all'aria aperta nel frattempo avevo dato un goccio di whisky all'uomo che mi aveva ringraziato con un segno cordiale del capo e avendolo sorbito d'un fiato aveva steso la mano per avere tutta la bottiglia che poi scolò come fosse stata piena d'acqua come ricorderete il capitano Tobias era stato il precedente inquilino ed era proprio lui l'uomo emerso dal pozzo nel corso della chiacchierata che seguì appresi la ragione per cui aveva lasciato l'abitazione era ricercato dalla polizia per contrabbando aveva patito la prigione e ne era uscito solo un paio di settimane prima ed era poi rientrato nella sua vecchia abitazione salvo trovarvi dei nuovi inquilini era penetrato attraverso il pozzo le cui pareti non continuavano in fondo di questo parlerò fra poco ed era salito per mezzo di una scaletta ricavata nel muro della cantina la cui cima dava su un pannello posto di lato alla stanza di mia madre questo pannello si apriva girando lo stipide sinistro della sua porta con il risultato che questa restava disserrata ogni volta che si apriva il pannello il capitano si lamentò senza alcuna credine che il pannello si era deformato e che metteva un tonfo ogni apertura è questo tonfo che avevo confuso con i colpi sulla balaustra non spiegò il motivo per cui entrava nella casa ma vi aveva evidentemente nascosto qualcosa che intendeva recuperare tuttavia risultandogli impossibile entrare senza il rischio di essere preso aveva deciso di buttarci tutti quanti fuori confidando nella cattiva reputazione della dimora e nei propri tentativi artistici come fantasma e devo dire che c'era anche riuscito aveva poi intenzione di affittarla nuovamente avendo in questo modo tutto il tempo per riprendersi quello che vi aveva nascosto la casa faceva proprio al caso suo perché c'era un passaggio come mi mostrò in seguito che collegava il finto pozzo con la cripta della chiesa dietro il muro del giardino e questi a loro volta erano collegati con certe grotte scavate nelle pareti rocciose che scendevano al mare dietro la chiesa nel corso del dialogo il capitano Tobias si offrì di rilevare la casa dal momento che questo andava bene a me e questo andava bene anche al padrone di casa si decise di non intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti e di tacere sull'intera faccenda chiesi al capitano se vi fosse davvero qualcosa di strano legato all'abitazione e se lui avesse mai assistito a fenomeni insoliti disse di sì che aveva notato due volte una donna che vi si aggirava alle sue parole ci guardammo tutti sbigottiti aggiunse che ciò non lo aveva mai preoccupato che l'aveva vista solo due volte e sempre dopo essere sfuggito al fisco il capitano era dotato di spirito di osservazione aveva notato come aveva posizionato i tappettini contro le porte e dopo essere entrato nelle stanze e avervi camminato intorno in modo da lasciare ovunque impronte di pianelle bagnate aveva deliberatamente messo i tappettini nel modo in cui li avevamo ritrovati il verme caduto dalla sua disgustosa zampa di montone era stata una casualità non contemplata dal suo piano terrificante ed era profondamente compiaciuto sapendo quanto ci aveva impressionati il puzzo di muffa proveniva dalla scaletta nascosta quando il capitano apriva il pannello anche la porta che sbatteva era il risultato di una sua azione giungo ora al termine della burla e alla difficoltà nel cercare di spiegarne gli altri particolari in primo luogo era ovvio che nella dimora vi fosse qualcosa di strano che si manifestava sotto sembianze femminili diverse persone se ne erano accorte e risulta impossibile attribuire la cosa solo alla fantasia allo stesso tempo però appare straordinario che io abbia vissuto due anni nella casa senza aver visto nulla mentre il poliziotto aveva visto la donna dopo essere stato la meno di 20 minuti il padrone di casa l'agente l'ispettore l'avevano vista posso solo supporre che la paura fosse in ciascun caso come dire la chiave che schiudeva i sensi alla presenza di quella creatura il poliziotto era un uomo altamente impressionabile e quando si spaventava era in grado di vedere la donna la medesima spiegazione si applica agli altri io non vedevo nulla fin quando non ero davvero atterrito a quel punto vedevo non una donna bensì un bambino che scappava via da qualcosa o qualcuno ma riprenderò questo aspetto più tardi in parole povere fin quando non era presente un certo grado di terrore nessuno veniva toccato dalla forza che si manifestava sotto forma di donna questa teoria vale a spiegare perché alcuni inquilini non si accorgevano di niente mentre altri scappavano via subito più erano impressionabili minore era la quantità di paura necessaria per renderli consapevoli della forza presente in quell'abitazione anche la curiosa fosforescenza degli oggetti di metallo in cantina era stata vista soltanto da me il motivo ovviamente lo ignoro ma carnaki il bambino ci puoi spiegare quella parte perché tu non hai visto la donna e loro non hanno visto il bambino si trattava della stessa forza che appariva sotto forme differenti e persone diverse no questo non posso spiegarlo ma sono quasi certo non solo che la donna e il bambino fossero entità completamente distinte ma anche che non si trovassero sul medesimo piano d'esistenza è impossibile adesso spiegarlo a parole perché il linguaggio non è sviluppato al punto di avere prodotto termini con sfumature di significato tali da permettermi di esprimere quello che so quando si verificò il tutto non fu in grado di capirne il meccanismo neppure alla lontana tuttavia in seguito ebbi una vaga intuizione di certe ipotesi in sintesi è stabilito nel manoscritto Sigsand che un bambino nato o morto è tolto dalle strigi quantunque primitivo questo concetto può tuttavia contenere un fondo di verità prima di chiarirlo però permettetemi di comunicarvi un pensiero che ho spesso concepito può darsi che la nascita fisica sia un processo secondario e che prima che sia possibile lo spirito madre si metta a cercare finché non lo trova il piccolo elemento cioè l'ego primitivo o lo spirito del bambino può accadere che una certa ritrosia spinga quest'ultimo a sfuggire alla cattura della madre ed è forse quello a cui ho assistito ho sempre cercato di pensarla in questo modo ma è impossibile ignorare il senso di ripugnanza provato al momento in cui la madre mi passava accanto questa ripugnanza richiama l'idea suggerita nel Singsand che un bambino nato morto sia così perché il suo ego o spirito è stato preso dalle strigi in altre parole da qualcuno dei mostri del cerchio esterno questo pensiero è orribile e forse appare ancora di più tale per via della sua frammentarietà ci lascia con l'idea di un animo di fanciullo vagante fra due piani di esistenza che corre attraverso l'eternità per sfuggire a qualcosa di incredibile e inconcepibile perché non afferrato per i nostri sensi la cosa non può essere discussa oltre dal momento che in ogni caso è sciocco parlare di qualcosa di cui si abbia una conoscenza parziale come questa vi è un pensiero che è mio e forse c'è uno spirito madre ma Carnegie è il pozzo come faceva il capitano entrare dall'altra parte nel modo in cui ho detto prima le pareti del pozzo non toccavano il fondo così ci si doveva solo immergere e rispuntare dall'altra parte sotto il pavimento della cantina e arrampicarsi per il passaggio poi ovviamente l'acqua aveva il medesimo livello d'acqua al di là del muro non chiedetemi chi avesse ricavato l'entrata del pozzo o costruito la scaletta perché questo non lo so la casa era molto antica come vi ho detto e quella roba poteva essere utile nei tempi andati ma Carnegie è il bambino diresti che la nascita avesse avuto luogo in quella casa in modo che questa fosse entrata en rapport per così dire con le forze che hanno prodotto la tragedia si ritengo di si ammesso che si prenda per buona l'idea del SIGSAND per rendere conto di questo fenomeno ci possono essere altre case ci sono disse Carnachie alzandosi in piedi ma ora signori fuori di qui aggiunse cordialmente e usando la consueta formula di congedo dopo cinque minuti eravamo sul Tamigi sovrappensiero e diretti alle nostre abitazioni fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare Carnachie l'inquilino dell'ultima casa grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto